ultimo giorno di calcio mercato ragazzi io direi dovete provare a prendere in prestito qualcuno tipo sto terzino terzino sinistro a destra chi ci abbiamo? adesso abbiamo ferrarini fa ridere io direi sto kelvin alle 8 e 4 mazzinio 20 mazzinio 20 sa chi proviamoci per sto kelvin niente mazzinio manco tersini questi ce stanno renan terzino sinistro ma non vorrà mai un terzino qua danino questo è forte vero anche rigas rigas però voglio voglio a tutti i costi ce l'ho qui ce l'ho scambio giocatori se io ti dessi se io ti dessi matos matos più un milione un milione 350 un milione 350 perfetto ma ma che acquistone che facciamo ragazzi se questo accetta facciamo un acquistone della madonna è importante ma certo certamente certamente 5 anni 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 che avevamo fatto, Enriquez, mamma mia, fortissimo, fortissimo, guardate che statistiche, fattura difensiva 73, questo diventa anche un difensore centrale all'occorrenza. Che bestia ragazzi, persino a sinistra una bestia, che acquistone dell'orco via, dell'orco quanti anni hai? 27, curato? 26. Quindi, Enriquez, dell'orco lo vendiamo. Che acquistone ragazzi, Enriquez, mamma mia, il brasiliano, i brividi, offerta per carretta, 7,50, dammi un po' di più, no? Così suolevamo subito dei coglioni. Via testo carretta, 800, boni, via da l'orco. Dimmi che è un'offerta, no, carretta venduto. Va bene. Furignati, un milione e quattro, Kikizzola, 8,70. Andiamo Kikizzola. Furignati no, ci serve. Retta venduto. Furignati, sempre a meno e quattro. Niente, Kikizzola è rimasto. Oh, il rapporto, finalmente. Aspetta, il pressivo di Vukovic. Ci penso nemmeno. No. Aspetta per il trasferimento, Vukovic, Gonzalez, 7,950. Ma che senti? Dove sei reso conto dei talenti? Eccolo. Eccolo. In Uruguay. Chi ci hai trovato? Guiano, questo è forte, ragazzi. Marina pure. Varela. Continua a seguire. Non ti fa scappare. Non te li fa scappare. Passi un incontro fondamentale. Ah, Lizy. Non sei buono. Non sei buono, Lizy. Pisa Perugia. Ragazzi, io direi che ci facciamo un... Ci facciamo un giro qua. Guardate qui, Sargeno, qua. Fabio Silva. Questo è forte, forte. Ci facciamo un giro qua. E basta. Finiamo con il video. Gio mandè. So, ho sentito un sacchie volte. Hasner 70. Buono Hasner. Ammione 70. Prignola. Sa forte, forte. Sa quanto ho. Frendrup, questo manco io chiedo. Lo conosco. Un mostro. Milanese da Roma. Carne secchi, questo è forte, forte, ragazzi. Semioni. Sto glimo, qui. Già tale, ne costerà un boato. Folorunuscio. Folorunuscio. E chi è? E vabbè, ragazzi, io vi saluto. Nel prossimo episodio. No, ma gioca contro il Pisa, che è quinto. E sorpassiamo questo cittadello e questa regina. E questa Alessantria. Magari. Che acquisto, Rikas, ragazzi. Grazie.